Upas, anticipazioni, Damiano potrebbe tornare con ma Viola non si arrende. Un posto al sole va in onda da lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3. Nelle prossime puntate del derilidrama per Tenopeo. Viola ed Eugenio torneranno insieme e daranno la bella notizia ai loro cari. Nel frattempo Damiano, dopo aver metabolizzato la delusione, sembrerà riavvicinarsi a Rosa Piccariello. Le anticipazioni rivelano però che Viola non sarà affatto convinta della propria scelta e questo aprirà la strada a una serie di stravolgimenti nelle vite sentimentali dei soggetti coinvolti. La decisione di Eugenio, Paolo Romano, di avviare le pratiche di separazione legale metterà Viola, Ilenia Lazzarin, dinanzi ad una difficile decisione. Le anticipazioni rivelano che la donna, probabilmente, a causa della forte pressione, deciderà di tornare assieme al marito. Ci sarà aria di festa quindi a casa Giordano Bruni, quando la coppia darà l'annuncio ufficiale a Raffaele, Patrizio Rispo. Ornella, Marina Giulia Cavalli, e al piccolo Antonio, Edoardo Scafora. Il bambino sarà ovviamente al settimo cielo. Tuttavia pare proprio che questa felicità non sia destinata a durare molto. La storiline della crisi tra Viola ed Eugenio si protrae sin dagli episodi relativi all'omicidio di Susanna. La sensazione era che questo lungo arco narrativo giungesse al termine con il ricongiungimento della coppia. Ma le ultime anticipazioni sembrano suggerire uno sviluppo totalmente diverso. Questa ritrovata intesa nascerà evidentemente su fragili basi e Viola molto presto si renderà conto di provare ancora qualcosa per Damiano, Luigi Renda. Resta da capire quale peso avranno le perplessità della donna su questa ritrovata unione, in ogni caso ce la conferma che questo triangolo amoroso andrà avanti ancora per un po'. Dagli spoiler arriva la conferma che Damiano e Rosa, Daniela e Ioia, saranno molto presenti nelle prossime puntate di Un posto al sole. Quest'ultima, lavorando alla terrazza e per Renato, Marzio Onorato, diventerà una presenza fissa a Palazzo Paladini. Mentre il suo ex dovrà metabolizzare la scelta di Viola. Le anticipazioni sembrano suggerire un possibile ritorno di fiamma tra Damiano e la sua ex moglie. A quanto pare però la scelta di Renda sarà dettata solo dallo sconforto. Rosa si ritroverà così a dover affrontare l'ennesima delusione appena Viola si affaccerà nuovamente nella vita del suo ex agente di scorta. La figlia di Ornella infatti capirà di provare ancora qualcosa per il puliziotto, resta da capire se Viola deciderà di farsi da parte o meno. La figlia di Ornella è un obiettivo, resta da parte o meno. La figlia di Ornella è un obiettivo, resta da parte o meno. Poi che potrebbe approcciare la scelta di Ciazza. Poi partire di Ciazza. Grazie a tutti.